Siamo con lei Filma, filma Filma Emovi fermo Senti come canta il prodotto italico? Il tipo di radiccio Il tipo di radiccio Il tipo di radiccio No no Non si Grazie. Cosa incrocia? Sono incrociato. non è più mare, non metto in casa no, no Vieni, ecco la la che stava da terra